Il processo di decarbonizzazione è ormai ineludibile, il riscaldamento globale è diciamo ormai evidenza, occorre riprogettare il modo di consumare e di produrre energia. In questo contesto dobbiamo pensare che qualunque scenario scientificamente provato prevede la necessità dell'utilizzo del gas, un gas che deve diventare l'elemento principale per permettere la transizione, la trasformazione delle nostre industrie, dei nostri consumi da diciamo guidati oggi dal carbone, dal petrolio a totalmente rinnovabili. Per fare questo qualunque scenario e qualunque evidenza evidenzia che occorre utilizzare il gas. Il gas che è una commodity energetica molto più efficiente, molto meno inquinante, produce meno della metà della CO2 che produce il carbone, è molto disponibile, abbiamo riserve per almeno 240 anni ed è diffuso e vede peraltro l'Europa con grandi operatori nazionali e internazionali presente, forte. L'Italia ha la SNAM che è uno degli operatori più forti al mondo per sviluppare un'industria sempre più mossa dal gas. Il gas non è solo il gas metano, dobbiamo pensare al gas anche come gas rinnovabile. Pensiamo al biometano, il biometano che si produce per esempio dall'industria agricola, dai rifiuti agricoli, noi siamo una delle potenze agroalimentari più importanti del mondo e quindi abbiamo un potenziale nel biometano eccezionale. L'altro è l'idrogeno, è diciamo un vettore energetico ancora poco diffuso, noi lo stiamo studiando e stiamo facendo degli esperimenti importanti nel paese come l'introduzione dell'idrogeno dentro la rete di metano. L'idrogeno potrà essere prodotto quando e quando ci sarà una sovrabbondanza di rinnovabili, di energia che non viene utilizzata per esempio in alcuni momenti del giorno e quindi la trasformazione di questa energia in idrogeno permette di stoccare l'energia in grandi serbatoi che verrà poi utilizzata quando è necessario. La trasformazione dei consumi da consumi che producono CO2, anidia carbonica e hanno un effetto sul climate change oggi non più sostenibile, vedrà la sostituzione con l'utilizzo del metano e delle rinnovabili che permetteranno una progressiva decarbonizzazione dove il biometano, il biogas avrà un ruolo importante, dove lo stoccaggio gas avrà un ruolo importante e dove le nuove tecnologie rinnovabili avranno un ruolo importante.